Un posto al sole, puntate dicembre, Lara a minacciare Roberto, paura per Federico. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Lara tornerà a essere una minaccia per Roberto e Marina. Proprio ora che stanno provando a ricostruire la loro vita dopo l'incubo vissuto con Fabrizio. Intanto Nico è un passo dal baratro dopo aver fatto il grande passo di vendere la sua auto ad Alberto. Così da avere i soldi necessari per far fuori Lello, come patuito con Manuio. Nel frattempo, Federico sarà vittima di un incidente al bar Vulcano che getterà nel panico i suoi genitori e Marika. Attenzione anche a Lia, che ripiomberà nel passato dopo una scoperta che la lascerà senza fiato. Prima o poi doveva succedere. Dopo la sua lunga assenza da Napoli, Lara è pronta a tornare in città con la bambina che ha trovato tramite vie traverse. Facendo credere a Roberto che sia sua figlia. La situazione si complicherà molto. Proprio ora che Ferri è al settimo cielo con Marina, usciti entrambi da un incubo a occhi aperti. Nelle prossime puntate di Un posto al sole Marina e la famiglia Ferri saranno in pericolo, video, e tutto porta un nome, Lara Martinelli. Il suo arrivo, come un fulmini a ciel sereno, getterà nel panico Roberto e non solo. Che si troverà davanti una figlia che crede sua. Al bar Vulcano Marika, Alberto e Clara si stavano rilassando con il piccolo Federico. Quando improvvisamente è scoppiato il panico. Il bimbo stava giovando con un piccolo trattore. Ma uno spiacevole incidente ha fatto allarmare i presenti, che si sono subito allontanati in cerca di aiuto. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Federico sarà vittima di un giocattolo contraffatto. Altro tema sociale e di attualità che verrà trattato nella soap opera. Per fortuna tutto si risolverà solo con una grande paura. Ma Alberto non lascerà perdere l'accaduto e vorrà trovare i responsabili. Negli episodi di dicembre una scoperta riporta Lia al suo passato proprio ora che aveva deciso di lasciarsi tutto alle spalle. Ovviamente riguarda la sua famiglia e, stando alle prime indiscrezioni, pare che riguardi il fatto che Alberto Paladini abbia trovato e tenuto i gioielli che appartengono alla famiglia Longhi, sebbene non ne sappia nulla. La scoperta che metterà in ansia Lia influirà sul rapporto con Diego, che tenterà come sempre di aiutarla con la sua proverbiale generosità. Occhio anche a Nico, Jimmy si renderà conto che qualcosa non va e correrà da Manuela per metterla al corrente degli strani comportamenti del padre. La giovane Cirillo riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi. Staremo a vedere. 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 Grazie a tutti